...conosciuto Valentina Ichlik Aft Oya Impedovo la protagonista, ideatrice, regista realizzatrice, diffonditrice del video di quello che lasci degli io drama ha fatto tutto da sordi un video per sordi che vi preghiamo di andare a vedere una volta con l'audio e una volta senza è molto bello la ragazza si è ingegnata è vero Vale, per favore vieni qua eh già sai vieni Vale, vieni 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 Vale, vieni chi fa rumore è un crumino grazie mille bella è questa allora se andate su youtube cercate io drama quello che lasci o solo quello che lasci più o meno usciamo subito come video e vedete questa io sono il vento fammi contento e seguimi prendere prendere o perdere quello che lasci non è un ricordo è un brivido sulla pelle delle stelle sta pastanotte vino migliore via salpiamo insieme oh 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 Poi fu un bacio, un altro e un cuore e un moto A un passo dalla luce come Orfeo con Euridice guarderò Preferendo a ieri un giorno nuovo Perché non siamo più privi di noi So don't try, oh Inveilico Oh 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 Stiamo ancora un poco intorno al fuoco Quello che lascia un brivido che su un'altra bella il vento porterà Raccontando quello che sei stato E io lo sento E un brivido Lo sento E un brivido Perché non siamo E un brivido E un brivido E un brivido E un brivido Grazie 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 Grazie